da questo momento siamo tutti registrati così la registrazione sarà poi diciamo promossa sui vari vari facebook youtube e così via di seguito allora di tu quando iniziamo io credo aspettiamo un altro ecco angelo favore eccolo qua angelo eccolo qua è arrivato io non lo vedo però voi lo vedete ancora no ma ecco qua adesso dovrebbe essere ecco angelo al buio vabbè vabbè l'importante che non è afono non è afono sì 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 ma no ma ci sono adesso carico tutto è angelo ciao angelo non ti vediamo ecco ecco qualche istante mi vedrete cercando di aprire la videocamera il microfono c'è solo la videocamera non riesco a capire perché non me la faccio aprire questo comunque ce la faremo fatto che voi eccolo perfetto la angelo allora mi devo comunicarsi purtroppo quello che ho comunicato prima al presidente ai presenti a riusciana per ho molto dispiacere per questa assenza purtroppo il professore alberto granese molto raffreddato stamattina si è svegliato completamente afono non veramente mi dovete credere sono profondamente addolorata per questa assenza però ho il dovere di comunicarvelo e che cosa posso dire veramente sono dispiaciuta vabbè ma su accorgere carino milena lui mi prega appunto di scusarlo con il presidente con luciana ovviamente ha organizzato con me questo incontro non posso dire va bene ma io quando organizzo ne metto sempre due o tre perché uno può sempre venire meno non mi affido mai a uno solo lino caputo vale per cento lino caputo vale per cento quindi noi stiamo tranquilli ciao marina la professoressa de nicolò ci fa compagnia stasera buonasera che è la tua nipotina marina c'è il microfono spendo marina marina c'è il microfono non hai sentito prima quando mi hai fatto i complimenti ho detto amore mio marina microfono spendo se devi parlare ecco la mia nipotina mi ha aiutato marina ti conosce qui io conoscevo una volta vino caputo ma ma allora sei tu ma tanti anni fa perché noi siamo perché noi siamo baresi esatto io guarda come ho visto il nome ho detto ma ma io la conosco non volevo essere indiscreto ma c'è ma sapessi che giro con la nostra amicizia mia e di marina una cosa incredibile perché io sono allontanata sono venuta a roma e adesso lei è venuta a roma e guarda casa abita vicino a me allora marina ci vedremo presto non possiamo evitarlo non sono una pedagogista quindi sì certo lo so lo so è vero la vera cultura è il grosso di competenze e di saperi ben venga la pedagogia comunque Elena vedi quanto quanto merito che stai mettendo stai intresciando amicizie vecchie nuove ma io da quando sto nel gruppo mingardo lambro cultura tu non hai idea sto mi sto specializzando tra virgolette in temi che riguardano l'emigrazione la la lo spopolamento concetto di identità perché si discute molto si discute il concetto di identità tutti i temi per per me nuovi perciò ho detto che la vera cultura è incrocio di competenze e di saperi che ha insegnato bioetica mi pare dei beni culturali chimica per la conservazione diciamo veramente del mix proprio non miscelatore ma dalla diversità vengono fuori dei migliori eh certo è vero è vero e poi devo dire devo riconoscere che il nostro presidente Ezio Martuscelli riesce veramente a coordinare un gruppo che è molto variegato che è molto attivo molto presente che interviene su tutti i temi e che che si presentano ovviamente anche occasioni pretesti però è un gruppo sempre aperto presente attivo possiamo chiudere grazie Milena sei stata la verità la verità io fatico a tenervi dietro io credo che adesso dobbiamo cominciare però sono le 41 va bene Giulio sei pronto va bene benissimo allora un saluto a tutti quanti voi innanzitutto prego eh su Pasolino non ti ho niente semplicemente che è stato un mio eh diciamo ho vissuto i film possibili che ha che ha prodotto ho letto tutti i romanzi che ha prodotto quindi diciamo sono un fans nel senso di di colui il quale ha amato Pasolino ecco naturalmente non scendo nei dettagli perché come io ho una preparazione di tipo tecnico e scientifico e quindi diciamo lascio a voi di parlare come dicevo prima se voglio solo ascoltare e godermi questa serata un saluto a tutti quanti voi naturalmente devo ringraziare Luciana e Milena le quali hanno organizzato questa serata che diciamo i cui sempre i supposti sono eccezionali detto questo do un saluto a tutti i partecipanti e do la parola al professor Caputo a Rino Caputo perché lui è quello che dovrà gestire il tutto ciao Rino a te le cose belle grazie Ezio grazie grazie al presidente di un'associazione che eh ecco alcuni di noi cominciano a conoscere adesso perché eh eh come dire abbiamo avuto eh dalla nostra amica Milena Montanile ecco prima l'annuncio e ora ecco il eh davvero il fatto concreto di eh eh di vedere all'opera ecco eh un'associazione culturale che eh eh da quello che capisco variegata perché interviene su campi temi diversi certamente legati alla cultura ma eh che vanno al di là anche di un'idea eh eh ristretta della cultura eh o anche soltanto come dire eh eh selettiva la prima cosa che voglio dire a nome di tutti è il rincrescimento per la mancata presenza ecco non dico l'assenza eh di eh Alberto Granese del caro amico collega maestro Alberto Granese che per ragioni eh schiettamente eh eh come dire sanitarie e non di covid ma di influenza eh eh non riesce nemmeno ad avere eh la parola e quindi eh ecco eh la sua grip il suo stato influenzale è stato aggravato anche da una afonia che gli impedisce pur con eh tutta la lo stato diciamo debilitante dell'influenza di essere qui adesso con noi però insomma eh so che eh è un attento eh osservatore ascoltatore quindi avremo senz'altro un'occasione eh in appresso per tornare su questi argomenti del resto voglio ricordarlo a tutti Alberto Granese è stato eh oltre che studioso inveterato ma proprio da ultimo nell'anno del centenario pasoliniano ha eh pubblicato un libro eh sull'opera la figura e l'opera di Pasolini molto interessante alcuni di noi qui presenti eh e sono hanno partecipato proprio ad occasioni di presentazione del libro di eh di Alberto e però allora permettetemi ancora qualche minuto eh di introduzione eh perché eh ritengo che possa essere interessante eh non solo per colmare il vuoto di spazio lasciato da da Alberto Granese ma proprio eh sono convinto che insomma possa essere utile eh queste piccole brevi eh osservazioni che voglio eh offrire a voi che dovrete intervenire e anche al più vasto pubblico che ci sta ascoltando perché è significativo io personalmente ho avuto eh nel giro di ventiquattro ore eh proprio un'adesione eh eh abbastanza ragguardevole di 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 persone che eh sono interessate diciamo a questo evento nostro di questo pomeriggio ma ecco ehm io e ehm io e Angelo Favaro in particolare siamo reduci proprio freschi perché eh eh ci sono solo poche ore di di distanza dal grande bel convegno su Pasolini che eh si è svolto nei giorni scorsi il diciotto diciannove venti organizzato dalla eh comitato nazionale eh Pasolini cento di cui Angelo Favaro eh e chi parla eh fanno parte eh ma anche soprattutto dalle tre università pubbliche romane è stato un grande momento anche da un punto di vista metodologico cioè che intorno alla figura e l'opera di Pasolini si siano ritrovati i tre atenei eh romani senza come dire le eh competitività anche talvolta eh anguste no faccio io no fai tu faccio meglio io faccio prima io eccetera eccetera invece no c'è stata una bella intesa su un convegno che è è stato intitolato eh non a caso Pasolini antesignano eh poi magari lascio ad Angelo che eh più direttamente ha organizzato insieme a Mauro Locantore insieme a me insieme a Giulio Ferroni ma insomma soprattutto loro hanno organizzato il convegno anche qualche dettaglio ulteriore ma perché dico questo perché appunto sento questo pomeriggio idealmente in continuità con questo convegno che ha fatto il punto su un anno di eh eh celebrazione eh davvero non retorica di Pasolini cioè il centenario è stata l'occasione per approfondire alcuni temi o aprire anche nuovi eh eh orizzonti di interazione tra l'opera di Pasolini e la realtà contemporanea senza alcuna piaggeria ritengo però che sia bello citare il eh tra le tante cose intanto proprio un libro di Angelo Favaro eh che ha fatto ha pubblicato un incontro colloquio con sei giovani poeti su Pasolini e anche questo lo cito soltanto per brevità se vorrà Angelo potrà dire qualcosa di più ma allora detto tutto questo eh credo che ehm si possa eh io possa proporre così eh una sintesi che sia eh provocazione ecco ai vostri interventi e cioè eh lo dico come come lo penso io prima di tutto l'anno centenario ha confermato che Pasolini è un classico della letteratura italiana ormai non ci sono dubbi proprio secondo l'accezione del competitore dell'amico competitore Italo Calvino di cui ricorre il centenario quest'anno duemilaventitré ecco che dice che i classici sono quelli che continuano a parlare ecco Pasolini davvero continua a parlare anche nella nostra contemporaneità ma ecco quello che è venuto fuori è che si è preso atto che c'è una grande diffusione dell'opera di Pasolini e il nostro presidente Ezio Martuscelli lo ha confermato con le sue parole quando diceva che a lui che di mestiere eh come dire è più nelle cosiddette scienze dure eh uso questo termine così giusto per capirci però ecco e lui ha potuto eh 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 avere contatto con l'opera di Pasolini attraverso il cinema attraverso la immagino la saggistica eh e così via ecco tutto questo è stato ulteriormente confermato in particolare da alcune mostre io le voglio segnalare anche con un invito davvero a frequentarle la mostra di apertura il 5 marzo del 22 a Bologna tutti dicono Pasolini poeta friulano certo è verissimo ma Pasolini non è nato in Friuli Pasolini è nato a Bologna e fino ai 18 anni era il classico eh eh giovane istruito colto che aveva fatto il liceo Galvani a Bologna centro e che aveva eh un una parlata dell'italiano con qualche piccola nuance del eh no dell'accento eh bolognese ebbene eh proprio a Bologna c'è stata una bellissima mostra folgorazioni figurative che eh ha dato proprio l'idea di di quanto Pasolini eh davvero sia stato un antesignano nel praticare tutti i codici espressivi e comunicativi contigui a quello letterario ma ecco l'anno vado sempre velocemente eh eh sto per finire questa carrellata ma l'anno centenario ha ha confermato e anzi esaltato la dimensione specifica di Pasolini cioè quella di essere poeta e il poeta eh eh Pasolini diciamo la poesia in Pasolini è il fattore di espressione di geminazione anche delle altre forme espressive eh dal dal cinema al teatro e poi anche all'interazione con altri universi per esempio quest'anno eh centenario ha valorizzato il il rapporto inedito per tanti aspetti di Pasolini con la musica cioè è venuto fuori che Pasolini suonava il violino da adolescente proprio lì in Friuli nel nel luogo materno diciamo e al tempo stesso che proprio negli ultimi mesi prima della morte per assassino e lui sognava di pensare solo alla musica lì nella torre di Chia dove avrebbe voluto eh ripararsi eh no per tutti gli anni a venire che non gli sono stati consentiti ecco eh quindi la poesia eh come fatto centrale in Pasolini e io mi permetto di dire che è proprio quello che conferma la sua appartenenza alla tradizione illustre della letteratura italiana pensiamo al suo rapporto con tutti gli autori ma in particolare con Dante il giorno dopo a cadavere ancora caldo sul suo sulla sua scrivania è stata trovata no l'abbozzo di quella che avrebbe dovuto essere la nuova divina commedia cioè la divina mimesis no eh alcune prime parti erano già state avviate dal dall'autore ecco e tanto altro si potrebbe dire ma adesso non voglio certo occupare io tutto lo spazio era solo per introdurre ecco un una qualità l'ultima cosa che che dico e si riallaccia in qualche modo alle osservazioni che non so se sono già eh nella fase della registrazione pubblica o che però noi abbiamo sentito che diceva Milena Montanile e che soprattutto poi in modo esplicito il presidente eh Martuscelli faceva cioè è venuto fuori ecco la grande attenzione di Pasolini alle problematiche che guarda caso oggi sono per noi molto urgenti e stringenti le ultime parole di Pasolini in cui eh in quelle settimane prima della morte sono legate all'ambiente pensate un po' cioè alla necessità che proprio respingendo le sirene del cosiddetto consumo no eh della cosiddetta società consumistica di massa ecco si andasse a recuperare un rapporto con l'ambiente non solo con la natura in senso letterario che avvicina molto Pasolini alle problematiche che stiamo affrontando che ci stanno attraversando in questo momento ecco e questo mi pare un acquisto interessante che conferma che Pasolini è veramente stato un antesignano quindi ecco tutte queste tematiche io ve le eh metto tutte eh come dire sul tavolo e eh e quindi ecco vi invito poi ad intervenire su questo ovviamente eh siccome eh siccome eh siccome eh c'è una sacralità uso questo termine volutamente c'è una sacralità del testo noi possiamo dire tante parole talvolta chiacchiere talvolta parole dotate di senso ma è necessario sempre partire dai testi soprattutto se sono testi di grandi autori ed ecco allora che invito il nostro attore con i rei a ehm leggere eh eh così il primo eh brano il primo testo che dell'ho da tratto dall'opera di Pierpaolo Pasolini e subito dopo ecco proseguiremo negli interventi dovrebbero essere tre testi abbiamo scelto tre testi prego Luciana Gravina prego eh dunque abbiamo scelto tre testi per la prima tranche e altri due dopo quindi facciamo così perché uno solo insomma sono brevi comunque i testi prego prego non è soltanto un attore è anche un poeta poeta sperimentale che ha una grossa esperienza di poesia alle spalle quindi io credo che la leggerà benissimo dai allora sentiamo sentiamo senz'altro prego c'è non lo vedo non ti sentiamo Coni adesso adesso sì ecco ecco sì chiedo scusa prego prego ti chiedo scusa anche a chi ci sta seguendo no va bene da poesia in forma di rosa la realtà oh fine pratico della mia poesia e per esso non so vincere l'ingenuità che mi toglie prestigio per esso la mia lingua si trepa nell'ansietà che io devo soffocare parlando cerco nel mio cuore solo ciò che ha a questo mi son ridotto quando scrivo poesia e per difendermi e lottare compromettendomi rinunciando ogni antica mia dignità appare così indifeso quel mio cuore elegiaco di cui ho vergogna e stanca e vitale riflette la mia lingua una fantasia di figlio che non sarà mai padre pian piano intanto ho perso la mia compagnia di poeti dalle facce nude aride di divine capre con le fronti dure dei padri padani nelle cui magre file contano soltanto le pure relazioni di passione e pensiero trascinato via dalle mie oscure vicende a ricominciare da zero solo come un cadavere nella tua fossa è così ecco questa mattina in cui non spero che nella luce sì nella luce che disossa la sua felicità prima avrile le giornate di questa mia canossa da sempre dalla filoge poesia in forma di rosa manca sempre qualcosa manca sempre qualcosa c'è un vuoto in ogni mio intuire ed è volgare questo non essere completo è volgare ma fui così volgare come in quest'ansia questo non avere Cristo una faccia che sia strumento di un lavoro non tutto perduto nel puro intuire in solitudine amore con se stessi senza altro interesse che l'amore lo stile quello che confonde il sole il sole vero il sole ferocemente antico sui dorsi dell'elefante dei castelli barbarici sulle capsule del meridione con sole della pellicola pastoso teranato grigio biancore da macero e controtipato sì controtipato il sole sublime che sta nella memoria con altrettanta fisicità e nell'ora in cui è alto e va nel cielo verso interminabili tramonti di paesi miseri questi versi invece sono stati pubblicati postumi per la prima volta dalla rivista aggiungo gloriosa nuovi argomenti la nuova serie numero 67 68 luglio dicembre 1980 a cura di Enzo Siciliano che desidero ricordare è stato un fraterno amico di Pierpaolo Pasolini e nonché scrittore codirettore della rivista nuovi argomenti e anche critico sono uno che è nato in una città piena di portici nel 1922 ho dunque 48 anni che porto molto bene soltanto ieri due o tre soldati in un boschetto di puttane e me ne hanno dati 24 poveri ragazzi che hanno preso un bambino per loro coetaneo mio padre è morto nel 59 mia madre è viva piango ancora ogni volta che ci penso sul mio fratello Guido un partigiano ucciso da altri partigiani comunisti era del partito d'azione ma sul mio consiglio lui aveva cominciato la resistenza come comunista i monti i monti maledetti di un confine di sboscato con piccoli colli grigi e sconsolate prealti quanta la poesia ho cominciato a sette anni ma non ero precoce se non nella volontà sì sono stato un poeta sono stato un poeta di sette anni come Rimbaud ma solo nella vita grazie grazie coni grazie anche grazie coni grazie la mia impressione immediata e la scelta giusta di di dire Pasolini in forma non retorica non a gran voce ma proprio ecco facendo cogliere in questa sua prosa poetica talvolta Pasolini indulge proprio in questo ritmo di far sentire appunto farci risentire Pasolini vero Luciana? come leggeva Pasolini esattamente senza enfasi lo spirito lo spirito lo spirito di Pasolini è me ecco bene va bene questo è fa sempre bene noi che come dico io non abbiamo il dono perché poeta insomma è difficile diventarlo si deve studiare ma non basta studiare diceva un grande un grande nostro scrittore Giovanni Boccaccio che per essere grandi autori insomma scrittori bisogna avere due doti una è la exquisita locuzio e quindi certo la formazione il mestiere ma non normale exquisita eccellente ma non basta diceva lui occorre un altro ingrediente che è il fervor così lo chiamava lui il fervor e poi noi traduciamolo come vogliamo genio talento ha dimostrato di averlo questo fervor in questa lettura esatto complimenti allora allora io direi di passare adesso ad un primo intervento lasciando appunto l'intervento di Angelo come quello finale non necessariamente conclusivo ma alla fine della serie invitando ecco le amiche presenti e gli amici presenti a intervenire brevemente ovviamente perché abbiamo tutti come dire esigenze di tempi e poi rispetto per coloro che devono parlare quindi invito Luciana a intervenire vabbè non era previsto eh vabbè ma io mi arrogo mi arrogo questo diritto come dire provocatorio di eh Luciana Gravina è Luciana Gravina è studiosa e è donna di cultura ma è soprattutto mi permetto di dire oltre che scrittrice esaggista poetessa e quindi è una voce eh come dire ben ben inselbile in tutto questo prego ti ringrazio detto da te che sono poeta ci credo pure è per forza perché qualche anno fa io ho presentato il libro un libro di poesie di Luciana quindi mi sono compromesso grazie allora parto dal titolo che abbiamo dato a questa nostra riunione che mette in evidenza il corpo la poesia l'eresia per cui e poi c'è il titolo della relazione di Favaro di Angelo che pure è centrato sulla poesia ma allora Pasolini è solo poeta e giustamente Rino nella sua introduzione ha messo in evidenza la ragione che c'è al di sotto a sotto a questo ricorrere continuo della parola poesia e cioè che la poesia è forse quel fervor di cui tu parli che inonda e riempie di sé poi tutta l'espressione di Pasolini non soltanto quella poetica ma il cinema il romanzo anche quando scrive la saggistica imprecando e facendo il rivoluzionario ovviamente e polemizzando fortemente anche lì c'è la poesia quindi la poesia è lo status di Pasolini che poi di Rama si esplica in tutte le sue forme in tutte le forme che Pasolini adopera in tutti i codici espressivi di cui egli si serve per enunciare il suo pensiero Pasolini ovviamente è come tutti sapete è un personaggio pieno di contraddizioni per esempio lui era contro il consumismo però negli ultimi anni della sua vita pare che fosse molto diventato abbastanza ricco non so se è vero questo però l'ho sentito dire però diciamo che spedeva molto e quindi aveva possibilità automobili lussuose che cambiava ogni anno cioè c'è la contraddizione che mentre dice che il consumismo avrebbe rovinato la nostra vita la società e l'avrebbe portata come è adesso in effetti come è arrivata adesso lui poi faceva il contrario quindi ci sono tantissime altre contraddizioni il personaggio Pasolini per cui dice ma gli dobbiamo fare il santino a Pasolini o no ecco questo è l'interrogativo perché sento anche molte voci discordanti no a me Pasolini non piace no ma ecco e allora invece quest'anno ha portato dedicato a Pasolini ha portato una miriede di manifestazioni di convegni di libri scritti su Pasolini qual è la verità dunque su Pasolini ovviamente io lo so Pasolini va riconosciuto come intellettuale vorrei che ci fermassimo un po' su questo punto mi fermo va bene Luciana grazie sì voglio ricordare perché è giusto ricordarlo che questa dimensione centrale da crogiuolo proprio della poesia lo aveva riconosciuto subito il grande amico insieme ad Enzo Siciliano Alberto Moravia tra l'altro Enzo Siciliano è stato uno dei primi veri biografi di Pasolini cioè scrittori non del pettegolezzo ma come dire che ha tentato una riassunzione della personalità e dell'opera però Moravia disse anche lui a cadavere ancora caldo dice hanno ucciso un poeta di poeti ne nascono al massimo tre o quattro nel secolo e lui era uno di questi ecco quindi ci portiamo questa consapevolezza allora io sempre rapidamente ringrazio Luciana che è stata proprio efficace e al tempo stesso così non si è dilungata in questa efficacia vorrei passare a Milena Montanile perché ecco se lo ritiene anche lei possa intervenire e dire qualcosa in questo senso la prima osservazione che mi viene di fare dopo la lettura di Coni che effettivamente il cuore leggiaco di Pasolini ci fa ci dà ragione anche del titolo che abbiamo scelto per questo incontro per quanto riguarda il resto io preferirei parlare a chiusura perché a chiusura ho alcune cose da dire va bene allora io vi proporrei questo facendo anche qui una provocazione spero non sgradita inviterei Coni Conirei a leggere ancora ma contrariamente al nostro canovaccio avviso Coni ecco che mentre do la parola ad altri prepari qualche altra lettura va bene va bene intanto questa seconda lettura ma poi avrà il tempo Coni di scegliere qualcosa anche perché darò subito adesso cogliendo anche il consiglio di Milena darò subito la parola ad Angelo Pavaro perché in assenza anche di Alberto Granese e forse sentiamo tutti l'esigenza di un intervento complessivo rispetto al quale puoi riferirci nel dibattito prego Coni Coni ti ho mandato anche altri testi da cui puoi scegliere ma lui ce li ha lo sicuro lo farò con piacere allora da poesie mondane 23 aprile 1962 una coltre di primule pecore contro luce metta metta Tonino al 50 non abbia paura che la luce sfondi facciamo questo carrello contro natura erba credda chiedita gialla tenera vecchia nuova sull'acqua santa pecore e pastore un pezzo di masaccio provi col 75 carrello fino al primo piano primavera medievale un santo eretico chiamato bestemmia dai compari sarà un magnaccia al solito chiedere al dolente leonetti consulenza su prostituzione medioevo poi visione la passione popolare un'infinita carellata con Maria che avanza chiedendo in umbro del figlio cantando in umbro l'agonia la primavera porta una coltre da le ceneri di granchi già si accendono i lumi costellando via Zabaglia via Franklin l'intero testaccio risadorno tra il suo grande lurido monte i lungoteveri il nero fondale oltre il fiume che Monteverde ammassa o sfuma invisibile sul cielo diademi di lumi che si perdono smaglianti e freddi di tristezza quasi marina manca poco alla cena brillano i rari autobus del quartiere con grappoli d'operaie agli sportelli e gruppi di militari vanno senza fretta verso il monte che cielo è mezzo a sterri fradici e mucchi secchi di immondizia nell'ombra rintanate zoccolette che aspettano i rose sopra la sporcizia afrodisiaca e non lontano tra casette abusive ai margini del monte o in mezzo a palazzi quasi a mondi dei ragazzi leggeri con stracci giocano la brezza non più fredda primaverile ardenti di sventatezza giovanile la romanesca loro sera di maggio curi adolescenti fischiano per i marciapiedi nella testa vespertina e scrosciano le saracinesche dei garage fischianto gioiosamente se il buio ha reso serena la sera e in mezzo ai platani di piazza testaccio il vento che cade in treniti di bufera e ben dolce perché radendo i cappellacci i truffi del macello gli si imbeva di sangue marcio e per ogni dove agiti rifiuti odori di miseria è un brusio la vita e in questi pezzi in essa la perdono serenamente e se il cuore ne ha pieno a godersi ecco li miseri la sera e potente in essi inermi per essi il mito rinasce ma io col cuore cosciente di chi soltanto nella storia vita potrò mai più con una pura passione operare se so che la nostra storia è finita bene grazie grazie coni e appunto le ceneri di Gramsci ricordiamo proprio rispetto anche al discorso che faceva Luciana lo scandalo del contraddirmi dell'essere con te e contro di te con te nel cuore nella mente contro di te nelle viscere appunto il il le contraddizioni non solo quelle ma tutte le contraddizioni di Pasolini ma credo che di questo appunto ricollegandosi al titolo del nostro incontro possa parlare agevolmente ora il professor Angelo Favaro che per chi non lo conosce è un docente delle scuole superiori italiane ma dottore di ricerca e fin dall'inizio ecco studioso di rango accademico collabora da sempre con l'università di Roma Tor Vergata ed è autore di innumerevoli contributi e non solo su Pasolini ma sull'intero arco della letteratura italiana ma certamente per quanto riguarda Pierpaolo Pasolini ecco Angelo Favaro è stato un protagonista indiscusso di questo anno centenario anche prima ricordo per esempio i bei lavori del 2015 quando ci fu la ricorrenza del quarantennale dalla morte di Pasolini ecco e ricordavo appunto questo libro tra gli altri interventi suoi in cui ha fatto parlare sei giovani poeti dell'opera di Pasolini che non è impresa da trascurare ecco proprio perché c'è questo rapporto tra Pasolini e le nuove generazioni ovvero le nuove generazioni per giunta di poeti legate appunto all'opera di Pasolini ma di questo ripeto e di tanto altro ci parlerà adesso Angelo Favaro se ai miei occhi apparirà perché per ora non lo vedo Angelo ecco evviva prego Angelo allora intanto buon pomeriggio a tutti io voglio ringraziare Milena Montalile Luciana Gravina il professor Martuscelli che vedo questa sera per la prima volta l'attore poeta con i rei che ci ha deliziato introducendo questo autore così complesso difficile simpatico antipatico allo stesso tempo e ovviamente il magister il nostro professore Rino Caputo che è evidentemente un punto di riferimento per molti di noi sia umanamente sia intellettualmente e mi dispiace davvero moltissimo dell'assenza del professor Granese che oltre a essere un amico stimato ma soprattutto una persona alla quale sono legato affettivamente e spero che al più presto si rimetta in salute e magari di poter fare una seconda puntata di questo incontro lo dico a Luciana lo dico a Milena in modo tale da completare il dittico pasoliniano che forse avevamo in mente all'inizio ecco detto questo io comincerei subito con una riflessione mi dicevano sia Milena sia Luciana guarda Angelo che ti rivolge a persone che conoscono Pasolini da neofiti non perché lo hanno effettivamente studiato oppure lo conoscono perché hanno visto i film o possono aver letto qualche romanzo io direi che nonostante la difficoltà del compito che mi sono dato di provare a fare un discorso un po' più organico su Pierpaolo Pasolini allora innanzitutto fare un discorso organico significa partire da quella definizione di poeta e però dobbiamo utilizzare il lemma poeta con un ampio spettro cosa intendo dire se proviamo a risalire all'etimologia del poeta è dal verbo poiein verbo greco che indica il fare l'agire ma non solo il fare e l'agire letterario in realtà in greco poiein vuol dire fare agire creativamente perché poi invece c'è un altro verbo e un altro e un'altra espressione che i greci usano per l'agire pratico il prassein il verbo prasso che vuol dire proprio agire concretamente agire praticamente allora comincerei proprio per persone che stanno affrontando in modo iniziale l'approccio con Pasolini a pensare a un poeta che si rifà al poiein in senso creativo e che quel poiein lo praticano essenzialmente utilizzando così Pasolini agisce lo pratica utilizzando tutti i mezzi espressivi possibili questo ci porta subito a individuare un Pasolini che crea che comunica che si esprime prima il professor Caputo citava la musica dobbiamo invece pensare oltre alla musica la parola poetica appena possibile la pittura già dagli anni 40 fra il 39 il 42 Pasolini comincia a dipingere a utilizzare lo strumento della pittura e poi non appena gli viene data la possibilità arrivato a Roma non ci dimentichiamo questa Roma che negli anni tra la fine degli anni 50 e poi gli anni 60 è la Hollywood sul Tevere e lì Pasolini è uno dei protagonisti di questa Hollywood sul Tevere e appena anche in questo caso gli viene data la possibilità vediamo un Pasolini che comincia a scrivere sui giornali il Pasolini polemista che non scrive casualmente su giornali en passant ma scrive sul Corriere della Sera arrivando su tempo arrivando a chiudere proprio la sua esistenza come polemista giornalista importante noto con articoli addirittura in prima pagina pensate oggi non immagineremmo mai di leggere in prima pagina un articolo di Saviano o di Alessandro Baricco insomma di uno scrittore contemporaneo in prima pagina Pasolini riesce ad avere prime pagine del Corriere della Sera ma non è solo questo c'è il teatro Pasolini utilizza il genere di scrittura letteraria drammatica lo utilizza completamente seguendo una sua poetica particolare di teatro di parola poi magari ne parliamo più avanti e soprattutto Pasolini utilizza due mezzi espressivi particolari uno è quello della televisione non molti sanno che mentre Pasolini sui giornali su Corriere della Sera distrugge il mezzo televisivo come mezzo omologante poi però contemporaneamente costantemente appena invitato in trasmissioni televisive nota quella di Enzo Biaggi ma ce ne sono altre Pasolini partecipa ama apparire sullo schermo televisivo sul piccolo schermo ma non solo ama apparire sul piccolo schermo è capace di comunicare sul piccolo schermo è capace di comunicare con una dolcezza una delicatezza non priva tuttavia di quella caratteristica che Pasolini non perderà mai per tutta la vita che è la sua chiarezza chiarezza espressiva cercare di arrivare al destinatario della trasmissione televisiva e in questa direzione vediamo un Pasolini che passa attraverso la poesia passa attraverso la scrittura romanzesca citava prima il professor Caputo Petrolio no? all'indomani della morte di Pasolini si trova lo scartapaccio di Petrolio sulla sua scrivania con uno scandalo che perdura fino ai nostri giorni su un capitolo che potrebbe essere stato rubato sottratto Graziella Chiarcossi che custodiva le carte dice che nessuno è entrato nella scrivania di Pierpaolo e nessuno ha toccato quelle carte poi abbiamo avuto invece politici che hanno detto il contrario che erano riusciti a vedere ad avere a leggere addirittura questo capitolo del romanzo incompiuto e pubblicato postumo dalla morte di Pasolini dovremmo aspettare il 1992 per vedere l'edizione 92-93 per vedere l'edizione la prima edizione di Petrolio ripeto pubblicato postumo con un lavoro filologico portato avanti da Aurelio Roncaglia insieme appunto a Graziella Chiarcossi detto questo Pasolini che attraversa tutti i generi espressivi non dimenticando il cinema non perdendo il teatro si misurerà anche come regista quindi non solo come drammaturgo scrittore di teatro ma anche come metter un sen cercherà di mettere in scena da regista un suo lavoro teatrale e vedete quello che a mio avviso diventa interessante per cercare di condensare in un'immagine il lavoro di Pasolini è quello del poien da un lato e dall'altro forse ritornare a una espressione utilizzata proprio da Alberto Arbasino che aveva detto che non solo invecchiare per Pasolini era un dramma costituiva in dramma un dramma non solo perché non aveva la prestanza fisica del giovane o del giovanissimo non solo perché faceva fatica a giocare a calcio con i giovani o giovanissimi ma soprattutto perché viveva il corpo che invecchiava come problema come qualcosa di inaccettabile e univa questa riflessione a un altro elemento vi prego prendiamolo come un po' chiave di lettura poi vi spiego per quale ragione ho scelto questi due passi o passaggi di Pasolini da utilizzare come viatico alla comprensione dell'autore e poi diceva sempre Alberto Arbasino che Pasolini Pierpaolo Pasolini non solo l'opera non solo la sua scrittura il cinema il teatro l'azione di polemista giornalista polemista ma anche l'uomo era uno scandalo ma uno scandalo che non dava scandalo non solo per una parte ovvero non dava scandalo solo per i cattolici solo per i comunisti ma Pierpaolo Pasolini costituiva in quanto tale uno scandalo divulgatissimo era uno scandalo anche per i cosiddetti lettori del Corriere della Sera riusciva a provocare scandalo con i suoi atteggiamenti per i borghesi per il popolo per le classi diremmo noi oggi dominanti e riusciva a provocare questo scandalo con la religione di stato con le ideologie alla moda perché le contrastava e questo contrastare generava un terribile turbamento non è un caso che Pierpaolo Pasolini subirà nel corso della sua vita ben 33 processi oltre 33 processi diciamo che 33 sono quelli più ce ne sono anche di minori ma detto questo 33 processi e provate a immaginare Pasolini pubblica il suo primo romanzo Ragazzi di vita siamo nel 54 a qualche settimana dalla pubblicazione il romanzo viene ritirato viene ritirato perché considerato osceno e anche qui guardate l'enormità Tambroni presidente del consiglio stabilisce quindi è la presidenza del consiglio che stabilisce la censura sull'opera letteraria e forse una delle più straordinarie uno dei più straordinari effetti di questo ritiro del romanzo dal mercato sarà proprio il fatto che nel corso del processo si avvicenderanno i massimi intellettuali italiani a difendere un'opera letteraria non a difendere Pasolini a difendere il romanzo di Pasolini e avremo Carlo Bo Ungaretti Alberto Moravia immaginate che meraviglia entrare nell'aula di tribunale e trovarsi i massimi esponenti della letteratura italiana della critica della letteratura italiana dell'epoca a difendere un romanzo a causa di chi una presidenza del consiglio che ritiene quel romanzo scandale uno scandalo per l'Italia e lo stesso discorso lo potremmo fare per la scelta di girare il Vangelo secondo Matteo nei sassi di Matera fra i sassi di Matera ecco allora questo è il primo elemento che io do che io consegno ai nostri ascoltatori come riflessione il pensiero di Alberto Arbasino che mette insieme la perdita della giovinezza e quindi la difficoltà ad accettare il tempo che passa l'età un desene ctute che Pasolini non ammette sul proprio corpo e lo scandalo a volte desiderato a volte provocato inconsapevolmente antroparentese io dubito che Pasolini immaginasse che all'indomani né Pasolini né tantomeno Livio Garzanti all'indomani della pubblicazione di Ragazzi di Vita che era poco più veramente che un romanzo posso aggiungere poco più che un romanzo brutto brutto perché non corrisponde alle strutture romanzesche provate a leggere altri romanzi dell'epoca a Cotè accanto a Ragazzi di Vita Ragazzi di Vita è brutto è scritto male la lingua è tutta artificiale noi mi riferisco a me a Rino che siamo frequentatori non delle borgate romane ma di Roma sappiamo che nessuno ha mai parlato o parla come i personaggi di Ragazzi di Vita non esiste è una lingua completamente totalmente artificiale raccolta su taccuini insieme a Franco Citti camminando nottetempo per le borgate romane è evidente che nessuno ha mai parlato in quel modo e nessuno parla oggi ancor meno a Roma come i ragazzi di Vita di Pasolini ecco un romanzo brutto Pasolini non avrebbe mai nemmeno lontanamente immaginato lo scandalo che quel romanzo aveva creato e tuttavia quel romanzo era finito in un'aula di tribunale trascinando con sé buona parte della letteratura della letteratura italiana dell'epoca come dicevo e soprattutto il povero Livio Garzanti che da buon editore non pensava di dover di dover affrontare una situazione così complica così complicata così strana così astrusa per un semplice editore bene teniamo presenti questi due elementi non accettare la morte non accettare la vecchiaia non accettare il tempo che passa da un lato e dall'altro lo scandalo e coniughiamo questi due elementi con quell'idea iniziale del poiein il fare creativo non prassein non l'azione in quanto tale non la costruzione in quanto tale ma un fare creativo questo attraversa tutta la vita di Pierpaolo Pasolini il poiein lo scandalo la giovinezza questa idea della giovinezza guardate io la desumo non solo da Arbasino ma da persone che hanno conosciuto Pasolini uno dei libri più belli Rino citava prima il quarantesimo anniversario dalla morte uno dei libri più belli che uscì proprio in quel quarantesimo anniversario si intitolava Pasolini ragazzo a vita lo aveva scritto lo ha scritto Renzo Paris un nostro caro amico ma soprattutto un amico di Pierpaolo Pasolini e vedete in quell'immagine del ragazzo a vita ritorna anche una sorta di frase che utilizzava sempre Laura Betti Pasolini era un ragazzo Paolo era un ragazzo Paolo era un ragazzo di 50 anni ma era un ragazzo e allora in questa dimensione quando è però che Pasolini scopre il suo essere ragazzo l'essere ragazzo a vita non nell'esperienza bolognese nell'esperienza bolognese ovviamente Pasolini nasce a Bologna il 4 marzo del 1922 nell'esperienza nel 5 marzo 5 marzo del 1922 nel 1922 nasce lì a Bologna appunto attraversa l'esperienza bolognese eccetera eccetera ma in realtà Pasolini scopre l'idea del ragazzo l'essere ragazzo l'importanza della giovinezza a Casanza quando lui si trova altrove quando lui si trova in quella famosa terra materna potremmo dire la madre terra come diciamo la madre lingua in quella terra materna nel profondo Friuli dove si trovano splendide campagne con la coltivazione dei vigneti e circondate dalle montagne della Carnia che sono delle montagne estremamente affascinanti ecco Pasolini scopre lì l'idea della giovinezza e come la scopre la scopre insieme alla sua omosessualità la scopre insieme al fatto che è attratto dai ragazzi dai ragazzi giovani che rappresentano per lui la purezza la bellezza del corpo puro dell'incontaminato la bellezza di una sacralità che è tutta in quella giovinezza un po' da Efebo greco un po' da giovane che ancora non sa quali sono le pulsioni verso il sesso femminile quello è il momento in cui Pasolini si innamora della giovinezza e quella giovinezza perdurerà in tutta la sua vita da un lato come desiderio per sé essere ragazzo a vita come direbbe Renzo Paris dall'altro come desiderio del corpo giovane del corpo che rimane sempre giovane a fronte di questo Pasolini scrive due che sono capolavori straordinari che porterà con sé per tutta la vita e che vengono pubblicati solo dopo la sua morte mi riferisco a due abbozzi di romanzo o due romanzi autobiografici o due romanzi diaristici Amado mio e atti impuri qui dovremmo aprire una piccola parentesi ma vado proprio breviter questi due romanzi Pasolini li porta con sé qualcuno ritiene che non li avrebbe mai pubblicati io personalmente studio questi romanzi dalla fine degli anni ottanta furono pubblicati per la prima volta nell'ottantadue penso che Pasolini non aspettasse che il momento opportuno per pubblicarli perché non si fanno viaggiare dattilo scritti da Casarza a Roma e poi a Roma da una casa all'altra solo per il piacere di portare con sé un diario fra l'altro chi oggi legga o avesse voglia di leggere questi due capolavori assoluti scoprirebbe il vero Pasolini poeta il vero Pasolini romanziere ovvero colui che è sinceramente poeta sta raccontando se stesso attraverso lo strumento della letteratura e quindi aprendo l'unica via possibile guardo il professor Caputo e penso a Petrarca l'unica via possibile alla poesia la poesia è narrazione esposizione di sé della propria fragilità ecco il Pasolini fragile noi lo leggiamo in atti impuri e in amado mio e lo leggiamo però anche in una lettera di cui io non voglio privarvi del piacere perché rappresenta un passaggio importante nel 1950 nottetempo siamo a gennaio Pasolini lascia Roma scappa da Roma prima da solo poi porterà con sé la madre e scusatemi scappa da Casarza e si reca a Roma Pasolini scopre Roma da Casarza arriva nella capitale d'Italia e pochi giorni dopo l'arrivo a Roma era gennaio quindi pochi giorni dopo scrive alla sua amica innamorata di lui ma ovviamente senza nessun esito si chiama Silvana Mauri il 10 febbraio le scrive queste parole anche adesso ho la testa ronzante dei gridi di campo dei fiori mentre spioveva ma questo calore che mi invade come un riposo tenete conto che il Friuli è terra del nord è terra fredda rispetto ai nostri inverni adesso lasciamo perdere questi giorni in cui le temperature sono più basse delle medie stagionali però immaginate il passare da un gennaio in Friuli a un gennaio romano e quindi lui sente il calore guardate la fisicità la sensualità di Pasolini che non è solo sensualità seduttiva ma è sensualità poetica cioè sentire tutto con i sensi con il proprio corpo e dice appunto questo calore che mi invade come un riposo lo devo anche alla tua lettera è qui sporca di rossetto e di crema del carnevale di versuta e dei fiori di piazza di spagna a quei tempi nel 47 è cominciata la mia discesa che è divenuta precipizio dopo l'erici giudicarmi ancora non mi riesce neanche come come sarebbe facile giudicarmi male ma penso che fosse invitabile mi chiedi di parlarti con verità e con pudore lo farò Silvana lo farò ma a voce se è possibile parlare con pudore di un caso come il mio si riferisce questa è la prima la prima attestazione e confessione confidenza della sua omosessualità il periodo romano il primo periodo romano per Pasolini da un lato è sofferenza sofferenza anche fisica perché non trova lavoro è difficile trovare una collocazione passa dalla casa dello zio ad altre case eccetera eccetera ma è anche gioia per la scoperta di una sorta di città luna park e in questa scoperta guida suo Virgilio è Sandro Penna nei primi anni romani nei primi mesi romani diventa amico di questo incredibile poeta e insieme a questo poeta scopre il piacere della città della vita in città di tutte le possibilità che la città offre tenete sempre presente che Pasolini era nato a Bologna poi si era trasferito durante la guerra fuggendo da Bologna nelle campagne del Friuli che non certamente non possono essere nemmeno lontanamente paragonabili a questa Roma a questa Roma dove fra l'altro si muovono e incontra tutti i grandi intellettuali dell'epoca in questo momento a Roma Alberto Moravia Elsa Morante sono punti di riferimento per la città Giorgio Caproni Attilio Bertolucci sto parlando di alcuni nomi che sono centrali nella letteratura italiana che hanno fatto la letteratura italiana del ventesimo secolo Goffredo Parise è ancora vivo attivo operativo Carlo Emilio Gadda che Pasolini guarderà sempre con straordinaria ammirazione e molti altri ecco quindi guardate una Roma che diventa spazio dell'incontro sia per quanto riguarda la fame intellettuale di questo giovane Pasolini e quindi fomenta un po' jain che è creativo ma è una Roma che offre infinite possibilità dal punto di vista della sessualità del giovane Pasolini e aggiungo un terzo elemento che prima è stato citato l'economia Roma è la città dove si incontrano agenti librari è la città nella quale ci sono i ministeri ma è soprattutto la città nella quale lo dicevo prima lo ripeto si fa il cinema la famosa Hollywood sul Tevere e qui Pasolini agisce in due modi fa anche delle piccole parti in qualche film ma soprattutto l'industria cinematografica capisce quanto è importante la scrittura di Pasolini e quindi Pasolini viene chiamato a scrivere le sceneggiature una delle più interessanti a mio avviso ma non sono solo in questo senso è quella che riguarda il lavoro di Fellini che noi tutti conosciamo e penso amiamo la dolce vita Pasolini partecipa come sceneggiatore per alcuni punti passaggi della dolce vita capolavoro ammirato in tutto il mondo e che rappresenta contestualmente il momento l'apice del boom economico ma contiene in sé i germi di quello che invece saranno già gli anni 70 dagli anni 60 agli anni 70 nonostante sia stata girata nel 60 entrata nelle sale cinematografiche nel 1960 contiene già quei germi che vedremo svilupparsi nel decennio successivo ecco Pasolini è qui ed è già un protagonista non un comprimario o personaggio di secondo piano raggiungerà però la massima visibilità proprio con il cinema e a cattone un film sbagliato dal punto di vista cinematografico ma perfetto come opera di poesia nel cinema sarà forse uno dei film più belli con il quale noi potremo affermare che il neorealismo per il quale il cinema italiano è studiato in tutto il mondo e quindi nelle università statunitensi nelle università in nord america ma anche in giappone il neorealismo è superato a cattone rappresenta la summa del neorealismo e rappresenta la fine del neorealismo perché dico questo? perché questa è la grande intelligenza di Pasolini andare oltre non fermarsi a ciò che tutti fanno ma provare a fare qualcosa di estremo e l'estremo è la chiave di lettura per capire la sua vita e la sua opera mi avvio alla conclusione perché poi è difficile sintetizzare il pensiero va bene Angelo perché così benissimo concludo mi avvio alla conclusione perché dicevo è difficile sintetizzare il pensiero e l'opera di Pasolini ma per un'altra ragione perché mi piacerebbe come dicevo all'inizio che ci fosse la possibilità di una seconda puntata anche con la presenza di Alberto e a quel punto mi estenderei anche più precisamente dagli anni sessanta in poi e concludo con un'immagine Pasolini scrive Le ceneri di Gramsci che ormai come diceva il professor Caputo è canonizzato classico nel 57 1957 Pierpaolo Pasolini pubblica sulla rivista Nuovi argomenti alcuni poemetti delle ceneri di Gramsci non pubblica tutto il volume poi usciranno complessivamente eh organizzati questi poemetti nel volume eh poco dopo sempre nel 57 e sempre per Garzanti Pasolini pubblica questi testi su una rivista letteraria questi poemetti su una rivista letteraria qual è l'elemento che nuovamente riapre l'attenzione sul corpo sulla natura sulla bellezza dell'essere al mondo come diceva prima anche Rino con te contro di te con la borghesia ma contro la borghesia con il popolo ma in un modo tutto suo particolare beh i poemetti sono scritti in terzine di endecasillabi danteschi è un unicum non esiste nel panorama italiano di questo momento storico chi ha osato tanto e pensate che nel 56 sulla rivista Barry era uscito il poemetto ancora non tutta l'opera ma il poemetto di Edoardo Sanguinetti che spingeva la nostra letteratura e la nostra poesia verso la neo vanguardia verso la poesia sperimentale verso il gruppo 63 ma nemmeno in quel frangente noi troviamo la capacità contemporaneamente di osare andando a recuperare la terzina dantesca e di rompere con la poesia classica o intesa classicamente perché le ceneri di Gramsci come troviamo nell'emma stesso ceneri e come troviamo nell'evocazione di Gramsci è poesia civile è forse l'ultimo grido di poesia civile in terzine dantesche della tradizione italiana grido che era iniziato con Dante proseguirà con Foscolo e a mio avviso a tutt'oggi non credo sia facile smentirmi si conclude con Pasolini grazie 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 inevitabilmente ti sei dovuto fermare diciamo non a metà ma insomma ad uno stadio ancora più lontano dell'attività proprio di Pasolini però insomma hai detto il più e davvero hai ragione cogliendo l'occasione di recuperare anche Alberto Granese ecco alle nostre amiche al presidente Martusceli anch'io dico forse il caso di pensare in futuro ad un'altra occasione altrettanto motivata diciamo di incontrarci però ecco quest'ultimo riferimento di Angelo Favaro mi pare significativo proprio rispetto a quella nozione di classico della letteratura italiana di Pasolini come appartenente alla tradizione illustre della letteratura italiana che notavo prima ci sono altri esempi pensate alla poesia supplica mia madre ecco lì il metro di Pasolini è tranquillamente quello di Giovanni Pascoli un poeta tra l'altro a cui lui era molto legato se teniamo presente che proprio nel momento universitario Pierpaolo Pasolini voleva laurearsi in storia dell'arte con il maestro Roberto Longhi e noi voi sapete lo vediamo De Camerone trilogia cinema teatro l'iconologia e l'iconografia di Pasolini è legata strettamente alla tesi di laurea che aveva preparato proprio l'istoria dell'arte parlando dei nostri grandi maestri medievali e come forse alcuni sanno ma vorrei che lo sapessero un po' di più ecco si sapesse un po' di più quando Pasolini dall'Adriatico sfolla verso il Tirreno in quegli momenti intensi tremendi del 1943 ebbene questa tesi di laurea viene smarrita letteralmente non sa più dove sta e nel giro di due mesi il povero Pierpaolo si laureerà lo stesso compilando una tesi in letteratura italiana ovviamente su Giovanni Pascoli ecco quindi per questo leggo i due aspetti che appunto non sono di pura scelta metrica ma di alto senso allora l'orario è già inoltrato siamo quasi alle 18 e quindi non possiamo dilungarci troppo posso fare un piccolo intervento ecco io darei adesso la parola ad Anna Maria Ferramosca che appunto l'ha chiesta subito e poi riserverei prima Anna Maria se Coni è pronto io però sei pronto ecco io farei leggere ancora Coni e poi darei la parola a te brevemente e poi ecco lascerei a Milena Montanile ecco il compito come dire di chiudere di far tesoro diciamo di tutte le cose che sono venute fuori già prego Coni ai letterati contemporanei vi vedo esistete continuiamo a essere amici felici di vederci e salutarci in qualche caffè nelle case delle ironiche signore romane ma i nostri saluti i sorrisi le comuni passioni sono atti di una terra di nessuna una West Land per voi un margine per me tra una storia e l'altra non possiamo più realmente essere d'accordo ne tremo ma è in noi che il mondo è nemico al mondo 10 giugno 1962 solo un rudere sogno di un arco di una volta romana o romanica in un prato dove schiumeggia un sole il cui calore è calmo come un mare lì ridotto il rudere senza amore uso e liturgia ora profondamente estinti vivono nel suo stile e nel sole per chi ne comprenda presenza e poesia fai pochi passi e sei sull'appio sulla tuscolana lì tutto è vita per tutti anzi meglio è complice di quella vita chi stile e storia non ne sa i suoi significati si scambiano nella sordida pace indifferenza e violenza migliaia migliaia di persone pulcinella di una modernità di fuoco nel sole in cui significato è anch'esso in atto incrociano pululando scure sui accecati marciapiedi contro lina case profondate nel cielo io sono una forza del passato solo nella tradizione il mio amore vengo dai ruderi dalle chiese dalle palli d'altare dai borghi abbandonati sugli appenini o le prealpi dove sono vissuti i fratelli giro giro per la tuscolana come un pazzo per l'appia come un cane senza padrone o guardo i crepuscoli le mattine su Roma sulla scioceria sul mondo come i primi atti del dopo storia cui io assisto per privilegio d'anagrafe dall'orlo estremo di qualche età sepolta mostruolo e chi è nato dalle viscere di una donna morta e io feto adulto mi aggiro più moderno di ogni moderno a cercare fratelli che non sono più grazie grazie coni grazie grazie coni con anche la la giusta intensità del crescendo finale davvero e qui ancora una volta ecco io sono una forza del passato quanto e quanta poca intelligenza di questo di questo sintagma pasoliniano spesso abbiamo incontrato cioè questa idea di pura opposizione tradizione avanguardia passato e presente non è così cioè è proprio questa poesia lo dice io sono una forza del passato cioè sono portatore della civiltà e la sua angoscia è nel vedere pur con tutte le sue contraddizioni che questa civiltà si sta degradando e disintegrando proprio nell'apparente progresso ecco e allora vedete come Pasolini letterato è letterato marcio per così dire da un lato ma dall'altro proprio questa letteratura questo suo affondarsi nella letteratura gli permette di leggere poi la realtà in modo intenso ecco il riferimento a Elliot la Waste Land e ancora una volta con tutte le allusioni che lui conosceva perché Elliot prende il titolo del suo poema che è il modernismo addirittura da un verso di Dante è il paese guasto dice Dante nella commedia e The Waste Land è la traduzione letterale eccetera eccetera quindi ecco questo riferimento credo che sia importante bene ha fatto Coni a presentarcelo e allora Anna Maria scusa dopo vorrei fare una piccola osservazione pure io dopo Anna Maria dopo Anna Maria intanto io ringrazio prima di tutto Luciana per avermi invitato è veramente un'occasione per me densissima ho acquisito dalle luci veramente profonde sia di Rino Caputo che di Angelo Favaro ma di tutti e poi dalla lettura di Coni e appunto dei dettagli che non conoscevo e vorrei dire solo brevemente che da tutto quel che ho sentito e da quello che conosco sicuramente Pasolini è un classico è insieme un antesignano e lui continua a parlare alla contemporaneità le sue problematiche e sappiamo questa necessità che è stata appunto approfondita di non perdere la guida della tradizione del passato come si diceva poc'anzi diciamo considerando questa tradizione come lui diceva nel suo senso di autenticità di non corruttibilità e poi c'è la sua tensione a questo riequilibrio sociale che ancora non vediamo oggi e a quello ecologico di cui è stato detto è stato detto anche questo actung al potere omologante della tv e chissà che cosa avrebbe detto Pasolini di questi strumenti elettronici che imperversano e poi c'è questo fuoco sulla poesia come puro motore di sensibilità di umanità e questo suo carattere universale che pervade tutta l'attività e la sensibilità di Pasolini nonostante appunto come è stato detto fosse scrittore cineasta pittore ho saputo non lo sapevo regista e tanto altro scusa se ti interrompo ma lo segnalo colgo l'occasione proprio a Roma ci sono adesso delle mostre una in particolare su Pasolini pittore che è davvero molto significativa perché chi è stato a Casarsa anche recentemente come siamo stati io ed Angelo ma non so se qualcuno di voi anche ha potuto notare che nella Casa Museo Pasolini Colussi Pasolini a Casarsa ci sono dei disegni di Pasolini che non sono da ridurre a semplici bozzetti o prove come dire di un dilettante ma sono proprio la pittura di Pasolini cioè io personalmente sono rimasto colpito dalla diciamo dal livello non dilettantesco della pittura di Pasolini e questo è interessante insomma perché mi riferivo proprio alla tua osservazione ma evidentemente provava come è stato detto perché lui sentiva sentiva con i suoi sensi quindi anche questa quest'altra forma d'arte tutte le forme di arte penso si è stato detto anche della musica e quindi ecco volevo solo aggiungere perché ho sentito pochi giorni fa un discorso di Alfonso Berardinelli sul fatto proprio del poeta totale no? lui lui dichiarava di considerarsi prima di tutto un poeta no? prima che abbiamo detto scrittore regista cineasta eccetera così ma io vorrei solo fermarmi su questo sulla è stato detto la necessità dello scandalo che lui sentiva no? di questa ribellione necessaria a scuotere non solo i detentori del potere no? ma anche credo sentita come compito purtroppo eluso alla grande da parte di tantissimi intellettuali e questa questa necessità noi vediamo viene elusa anche oggi ecco e questo è quello che mi sento di dire l'efficacia della parola per l'oggi di Paolo Pasolini come una necessità di vigilanza di veglia continua da parte degli intellettuali che oggi non si sentono effettivamente no? e quindi è questo che volevo dire questo suo fervor fervor dicevi Rignano questo fervor è tutto tondo non solo una forma forse di duende come era quello l'orchiano ma che lui trasfondeva in quello che scriveva ma soprattutto la vigilanza sulle storture e quindi sul riequilibrio sociale e naturale del pianeta no? Bene grazie a voi aggiungo altre osservazioni che mi verrebbe di fare proprio per esigenze di brevità e anche di rispetto degli interventi che stanno per essere quindi Luciana questo breve tuo intervento poi diamo la parola a Milena volevo fare intanto volevo ringraziare Angelo veramente una relazione stupenda adesso la parola stupenda è una parola normalissima non indica la complessità del discorso che hai fatto ma complesso ma chiaro ce l'ha illustrato in maniera molto efficace ti ringrazio tanto e poi volevo fare un intervento che mi ha un po' bruciato Anna Maria Ferramosca cioè sul ruolo dell'intellettuale oggi se Pasolini fosse vissuto oggi avrebbe potuto realizzare quella lo scandalo lo scandalo che senso ha oggi lo scandalo allora Pasolini è vissuto in un momento in cui l'intellettuale aveva una sua ragione di essere cioè l'intellettuale riusciva ancora ad essere il vigilante come ha detto Anna Maria cioè il vigilante della società e della politica cioè ad avere questa sentire e realizzare questa vocazione che è propria dell'intellettuale la vocazione della filosofia per esempio la vocazione della pedagogia la vocazione della letteratura della poesia eccetera cioè quella di vigilare vigilare sulla società sulla politica sull'umanità probabilmente e quindi Pasolini è vissuto in un tempo in cui c'era questo gruppo di intellettuali molto forte a Roma ma anche fuori di Roma che so per esempio Sciascia credo che sia un suo contemporaneo che mette è il primo che parla contro la mafia per esempio no oggi qual è il ruolo dell'intellettuale è annientato annullato completamente lo calo questo discorso sul nostro piccolo gruppo del Mingardo Lambro abbiamo deciso di fare cultura perché vediamo che il nostro Cilento è in una situazione io dico senza speranza non lo so poi guardo Antonella Casaburi per esempio che è giovane ha scritto un romanzo che ha tanta voglia di credo che Antonella sia un po' distante pure da me distante sicuramente come età ma anche come capacità di speranza ma il nostro Cilento è veramente per me in situazione in situazione terribile e il nostro gruppo questo lo sa abbiamo cercato di fare cultura ma che senso ha fare la cultura dentro un momento storico in cui questa cultura non è riconosciuta né nella scuola né la lettura dei libri cioè non vedo non vedo quale può essere più la funzione dell'intellettuale se l'intellettuale ce l'ha questa funzione per esempio diceva Angelo Pasolini scriveva sulla prima pagina del giornale no e chi oggi potrebbe avere una prima pagina lui ha citato e non mi ricordo chi ha citato autori scrittori di oggi di Baricco Baricco non non vengono accolti in prima pagina da un giornale dunque come può forse dipende anche da ciò che hai da dire no diciamo che dovremmo ragionare hai perfettamente ragione io condivido quello che dici però dobbiamo aggiungere due elementi lo dico proprio a passare rapidamente da un lato oggi ci sono più possibilità espressive di quelle che aveva Pasolini pensa per esempio ai forum online pensa a quello che stiamo facendo anche noi questa sera se tu hai voglia di denunciare se tu hai voglia di parlare di esprimerti oggi lo puoi fare decuplicato rispetto a quello che poteva fare Pasolini a costo zero il secondo danno però ed è un vero danno è che si è incapaci di parlare incapaci di denunciare incapaci di esprimere e sai perché perché gli intellettuali oggi non hanno più nessuna convenienza perché vieni fatto fuori dal mercato vieni fatto fuori dai centri di potere e allora non ti conviene più essere contro essere dall'altra parte fare le cosiddette barricate noi abbiamo ancora bisogno di intellettuali ma di intellettuali che abbiano voglia di stare sulla barricata non di stare dalla parte dei potenti non di stare dalla parte del mondo della cultura dell'editoria a livello elevato eccetera eccetera questo e se dici qualcosa che va troppo contro vieni marginalizzato e chiaramente questo purtroppo perché che cosa è accaduto è accaduto che anche la cultura è diventata merce Pasolini diceva io faccio poesia perché la poesia è una merce inconsumabile vero ecco scusatemi io intervengo perché giustamente la discussione prende la piega inevitabile proprio riflettendo a partire da Pasolini quindi è vero il problema è il ruolo dell'intellettuale pensate anche alla formula l'hanno detta prima di noi l'intellettuale prima era una specie di intellettuale legislatore lo si sentiva proprio perché dava le indicazioni davvero antesignano portava l'insegna oggi dice Bauman diceva Bauman l'intellettuale è interprete cioè questo livello come dire della vi do il mio parere sentiamo l'esperto ma senza appunto quella fervor quella capacità e ci porterebbe davvero molto lontano questo dibattito e siccome vedo che qualcuno ha alzato la mano non si possa fare ma almeno ecco vorrei concludere con il tema di Pasolini e poi certamente se c'è voglia si può continuare questo il presidente Martuscelli adesso ce lo dirà io per parte mia vi devo dire che ho alcuni limiti di tempo quindi non potrei inoltrarmi e indugiare come pure vorrei in un dibattito di questo genere quindi ora io propongo di concludere dando la parola a Milena Montanile e facendo leggere ancora a Coni se ce l'ha a disposizione qualcosa perché è un piacere ma è anche un contributo insomma la lettura di Coni e quindi poi andare avanti finché lo riteniate e soprattutto quando il presidente Martuscelli deciderà ecco Coni ci leggi qualcosa ancora Coni è scomparso Coni no c'è Coni ci senti c'è ma non non è scusa io io ho il microfono spento scusate prego no si è fuori connessione fate un secondo in attesa che ho capito in attesa che per favore Coni riprenda io darei la parola a Domenico Berriello che l'ha chiesto per un breve intervenio se il moderatore è d'accordo e poi sì no ma volevo solo raccontare una proposta dove da fare ma no alla fine prego 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 chi ha chiesto la parola prego Domenico Berriello ho chiesto la parola ma perché ci sono gli interventi che sono stati fatti sono di di grande profilo intellettuale e che puntano il il dito verso una situazione alquanto angosciosa sia di tipo localistico ma anche di tipo più globale non mi spingo a definire le aree ovviamente ma posso seguire un po' le orme di 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 per quanto riguarda il nostro cilento e concludere che sono brevissimo concludere che la mente da quanto è stato riferito da quando è stato così in parte diagnosticato anche decodificato la mente già corre al delibero arbitrio come agli eroici furori ma corre anche soprattutto nella sintesi a quello che è il narcisismo dei media oggigiorno che ci impedisce in un certo senso di creare un sistema più a misura d'uomo con una serie di problematiche molto ma molto disastrose per la comunità attuale in cui il consumismo e il mercatismo la fanno da padrone grazie è termino grazie grazie e devo dire non per piageria ma per richiamo a un minimo di consolazione purtroppo che è quello che sembra essere una specificità una peculiarità del cilento purtroppo a me che giro un po' l'Italia sembra tanto una condizione universale no se non universale più ampia vi assicuro ecco voi anzi siete in questo senso ammirevoli perché un'associazione come questa si dà da fare ma vi assicuro che anche altri cilenti purtroppo non voglio dire che tutto è cilento ma questo è un problema storico importante oggi ma prego presidente volevo solo aggiungere questo prego prego io direi facciamo finire poi io ho una proposta la dico adesso a me mi è interessato moltissimo quello che ha detto Luciana però non nel senso negativo in cui l'ha posto io penso che proprio in questo momento diciamo di direi tragico dal punto di vista dell'intelligenza dovremmo insistere gli uomini di cultura dovrebbero insistere sempre di più per poter non abbandonare ma insistere 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 affinché diciamo colori quali gestiscono le nostre le nostre la nostra sorte politicamente parlando possano ascoltare guai se gli intellettuali in questo momento fanno un passo indietro io penso che nei momenti di crisi gli intellettuali debbano sempre più importante sempre più importante quindi addirittura potrei fare una proposta cioè di organizzare un incontro sul ruolo degli intellettuali per le problematiche attuali della società no? Pasolini parlava delle parlava delle periferie i romanzi che ho letto di Pasolini risolta delle periferie qual è il problema più attuale adesso io vivo a Napoli ma in tutto il mondo il ruolo delle periferie ecco questo è un aspetto di Pasolini che io da ignorante che sono però diciamo ho percepito anche dal vedendo e leggendo i libri di Pasolini quindi questi aspetti qua sono ancora veri no? noi dovremmo pigliarci noi intellettuali non possiamo fare un passivire dobbiamo andare avanti dobbiamo accollarsi queste problematiche sempre di più ecco sono d'accordo con Luciano ma nel senso di positivo noi non possiamo abbandonare ma dobbiamo sempre di più combattere affinché l'intelligenza intesa nel senso la possa sempre più insistere 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 ecco ma io non voglio abbandonare solo che certe volte mi sento Don Quixote aspetta aspetta a dirlo il presidente Martuscelli Ezio Martuscelli ha detto una cosa molto importante che vi segnalo perché a un certo punto lui che mi risulta ho capito è chimico giusto Ezio? fisico-chimico fisico-chimico lui ha detto noi intellettuali ecco allora cominciamo a prendere atto del fatto che rispetto anche all'epoca di Pasolini non esiste più la figura forse un po' troppo totalizzante dell'intellettuale umanista come siamo noi diciamo ma la la nozione deve essere allargata perché oggi e non solo per ragioni di mercato o per ragioni di varia utilità e ci sono protagonisti sulla scena proprio intellettuale che vanno al di là ecco di un'immagine ancora troppo ristretta allora effettivamente un letterato come Pasolini ma anche prima di Pasolini e poteva dire la sua e i politici ascoltavano o addirittura gli offrivano il lati clavio no dice vieni qui a governare o comunque a leggiferare e qui è stato detto e lo riferisco senza qualunquismo per carità che nelle ultime assise parlamentari diciamo di questo decennio no il livello di laurea era sceso a meno di un terzo ecco quindi allora tante altre cose si deve dire ma davvero non voglio favorire il dibattito perché appunto i tempi stringono ora coni vedo che c'è e quindi lo inviterei se ancora quest'altro bello sforzo di leggerci qualcosa voce coni non hai non hai tolto la spunta apri il microfono coni ecco sì c'è il microfono spendo coni benissimo vabbè fa parte della diretta no avrebbe dai dai figurati allora come disse Carmelo Bene dall'alto della torre degli asinelli lui disse io mi scuso io mi scuso per il vento ecco io mi scuso per la mancata connessione di prima allora visto che abbiamo parlato di Pasolini che da intellettuale dell'epoca scriveva sulle prime pagine bene io mi arrogo il diritto di leggere un articolo che è passato la storia io so sì io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato golpe e che in realtà è una serie di golpe se istituitesi al sistema di protezione del potere io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969 io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna dei primi mesi del 1974 io so i nomi del vertice che ha manovrato dunque sia i vecchi fascisti dei autori dei golpes sia i neofascisti autori materiali delle prime stragi sia infine gli ignoti autori materiali delle stragi più recenti io so i nomi che hanno gestito le due differenti anzi opposte fasi della tensione una prima fase anticomunista Milano 1969 e una seconda fase antifascista Brescia e Bologna 1974 io so il nome del gruppo di potenti che con l'aiuto della CIA e in sicuro d'ordine dei colonnelli greci e della mafia hanno prima creato del resto miseramente fallito una crociata anticomunista a tamponare il 1968 e in seguito sempre con l'aiuto e per ispirazione della CIA si sono ricostituiti una virginità antifascista a tamponare il disastro del referendum io so i nomi di coloro che tra una messa e l'altra hanno dato le disposizioni e assicurato la protezione politica ai vecchi generali per tenere in piedi di riserva l'organizzazione di un potenziale colpo di Stato ai giovani neofascitti anzi neonazisti per creare in concreto la tensione anticomunista e infine a criminali comuni fino a questo momento e forse per sempre senza nome per creare la successiva tensione antifascista io so i nomi delle persone serie e importanti che stanno dietro a dei personaggi comici come quel generale della forestale che operava alquanto peristicamente a città ducale mentre boschi italiani bruciavano o dei personaggi grigi e puramente organizzativi come il generale Miceli io so i nomi delle persone serie importanti che stanno dietro ai tragici ragazzi che hanno scelto le suicide atrocità fasciste e ai malfattori comuni siciliani o no che si sono messi a disposizione come killer e sicari io so tutti questi nomi e so tutti i fatti attentati alle istituzioni e stragi di cui si sono resi colpevoli io so ma non ho le prove non ho nemmeno indizi io so perché sono un intellettuale uno scrittore che cerca di segnare tutto ciò che succede di conoscere tutto ciò che se ne scrive di immaginare tutto ciò che non si sa e che si tace che coordina fatti anche lontani che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro politico che ristabilisce la logica laddove sembra regnare l'arbitrarietà la follia e il mistero Pierpaolo Pasolini 1974 ecco grazie grazie Coni davvero si capiscono tante cose ma in particolare ecco questo consapevolezza di Pasolini del ruolo dell'intellettuale proprio nel senso e lì ci sono indicazioni persino di metodo al di là di tutto il resto ma il tempo stringe alcuni di noi hanno premura quindi la parola a Milena Montanile Milena ecco ti vedo sempre a metà ma ti vedo prego Milena concludi questa insomma questo pomeriggio davvero intenso ma Ezio promette già un'altra tappa successiva in primi stanza ringrazio Rino il professore Rino Caputo che da par suo ha coordinato un incontro che si è mostrato veramente all'altezza del tema che io e Luciano abbiamo scelto dobbiamo dire che siamo arrivati alla decisione finale attraverso una serie di confronti che abbiamo avuto ma poi alla fine diciamoci alla tutta il titolo alla luce di quello che si è detto stasera è veramente un titolo che ha rispecchiato quello che è stato detto mi riferisco in particolare all'intervento di Angelo e devo dire che dell'intervento di Angelo che veramente è stato illuminante perché è riuscito a darci un panorama dei punti più dei punti più importanti del pensiero e dell'attività di Pasolini in prima istanza torniamo al concetto di poesia che poi è il tema centrale di questo incontro ma poesia nel senso che intendeva appunto Angelo come poien cioè come fase creativa ed è secondo me proprio il lemma una riflessione che noi stasera abbiamo avviato su un lemma che sintetizza tutta la storia dell'essere del suo essere dell'essere di Pasolini e del suo modo e del suo esprimersi il secondo punto che secondo me va messo in evidenza è la centralità di Roma e a me ha molto catturato questo discorso mi ha catturato e ha fatto Angelo perché effettivamente Roma come ci ha detto Angelo rappresenta la scoperta di sé quindi Roma come scoperta di sé e come occasione anche per frequentare altri mezzi espressivi e poi il terzo punto importante che è stato messo in luce da Angelo è quello di Accattone che rappresenta come ci ha detto sia la diciamo l'affermazione ma anche il superamento del neorealismo e sappiamo bene che Pasolini gioca sempre in ossimoro in contraddizione e quindi riferimento all'andare oltre allo scandalo tutti i temi che mi pare siano stati messi ben in evidenza da Angelo ovviamente le letture di Coni sono state strepitose e devo dire che Rino è stato bravo a sapere uscire insieme le letture gli interventi e i commenti che via via andava facendo però io non posso concludere se prima non ovviamente innanzitutto dico che è stato per me gratificante organizzare con Luciana Gravina per conto dell'associazione culturale Progetto Centola e del gruppo Mingardo Lambro Cultura questo incontro ovviamente ringrazio in particolare il coordinatore che veramente è stato straordinario ha dimostrato veramente quello che ho detto all'inizio e la sua capacità di 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 questa è una è una cosa vera per chi conosce Rino Rino esce e riesce a risolvere qualsiasi situazione qualsiasi imbarazzo che si possa venire che si crea che si può creare e quindi ringrazio Angelo Favaro che con entusiasmo invitato da Luciana Gravina ha aderito all'iniziativa però non posso chiudere questo questo breve questa breve conclusione senza ricordare che sia relatori e sia coordinatori hanno offerto come ricordava prima Rino Caputo nel corso dell'anno centenario appena trascorso contributi significativi che hanno veramente arricchito il panorama della già ricca bibliografia pasoliniana allora mi vorrei soffermare anche perché purtroppo non possiamo godere della presenza di Alberto però io in qualche modo vorrei farla rivivere questa presenza soffermandomi in particolare sull'ultimo volume al quale aveva accennato prima il nostro coordinatore Pasolini il titolo è Pasolini l'esercizio della ragione del dovere numero 69 della collana E di sud delle cività letterarie libro che ha ottenuto e lo sottolineo veramente con vigore e con forza ha ottenuto il patrimonio il patrocinio morale del comitato delle celebrazioni per il centenario certamente e questo è un fatto che non possiamo trascurare mi sembra un fatto molto importante un riconoscimento che va sottolineato al libro di Alberto Granese a quello che significa Alberto Granese per tutti noi che gli vogliamo bene e al valore e allo spessore indiscutibile del suo libro e anche del suo lavoro allora il titolo scelto da Granese è un adattamento degli ultimi versi di progetto di opere future con posizioni intestine apparsa su nuovi argomenti nel 64 poi rifluita con diverse ibridazioni dantesche nell'ultima sezione di poesia in forma di rosa allora il felice adattamento dei versi di Pasolini esercizio del dovere politico come esercizio di ragione è il fulcro intorno a cui si muove l'argomentare di Alberto Granese Granese prende provocatariamente le distanze dalle vulgate pasoliniane infarcite dei soliti lemmi il corpo la vitalità il narcisismo l'omosessualità l'assassinio per porre al centro del suo discorso critico la vera sostanza etica artistica culturale del più grande poeta civile italiano come dice appunto Alberto Granese dopo Foscolo e qui ci colleghiamo appunto al senso che Angelo dava di poesia quindi allargamento del valore semantico di questa parola prescindendo da usurati schemi biografici e da ovvie ripartizioni di genere Granese ha focalizzato la sua attenzione sul complesso e articolato rapporto delle figure del sacro con il mondo reale e delle immagini del profondo con il mondo mitico in ultima analisi Granese lavorando su un territorio fertile di rimandi che va dall'originale filologia di Contini come Granese stesso ricorda alla rabdomantica ermeneutica di Giacomo De Benedetti di cui pure Granese è stato allievo alle rivoluzionarie riflessioni di Gramsci riesce a delineare un originale ritratto di Pasolini che egli giudica tra le espressioni più alte della modernità il volume di Granese ha goduto di numerose presentazioni e possiamo ben dirlo è sicuramente un punto di riferimento obbligato per chiunque voglia leggere o rileggere Pasolini altrettanto originale però dobbiamo dire è l'ultimo contributo di Angelo Favaro lui è qui presente con noi quindi Granese non ha potuto sentire e ascoltare Milena scusami purtroppo Angelo mi ha fatto sapere che per improrogabili impegni di famiglia è dovuto andare via mi ha mandato adesso un messaggio quindi la cosa mi dispiace mi saluta ma ecco è andato ringrazio Tino la cosa mi dispiace però ancora di più tengo a sottolineare alcune cose a proposito dell'ultimo lavoro di Angelo Favaro che potrei considerarlo e definirlo un felice esperimento un libro al quale hai fatto riferimento anche tu in apertura condotto in collaborazione con Eleonora Rimolo che pure abbiamo avuto qui con noi il presidente ricorderà che Eleonora Rimolo è stata qui alla presentazione del libro di Anella Puglia e allora qual è questo esperimento di Angelo? Si tratta di una singolare inchiesta che Angelo Favaro sulla scia della lezione moraviana delle indagini di nuovi argomenti rivolge a 18 giovani poeti di oggi poeti del nord poeti del centro poeti del sud tutti nati tra l'83 e il 2001 Angelo Favaro parte dal presupposto suffragato anche dalla tipologia delle vendite dei volumi editi da Garzanti che pochi conoscono o hanno letto veramente il Pasolini poeta più noto invece il Pasolini regista romanziere polemista corsaro di cui l'idea dell'inchiesta verificare cioè che cosa si proponeva Angelo verificare quanto i giovani poeti italiani coloro che scrivono poesia oggi conoscono e leggono gli scritti in versi di Pasolini la verifica come tutti sapete come non so sicuramente Rino conosce bene questo libro è confluita nel volume per Paolo Pasolini sei domande a giovani poeti infatti mi correggo sono sei domande per dodici poeti non come non è a dodici per dodici poeti gli avevo detto stegni delta tre è volume che è stato curato da Angelo con la prefazione di Giulio Ferroni nella collana Eclanum diretta proprio da Eleonora Rimolo allora che cosa fa Favaro sinoltra in una densa riflessione in cui fa il punto su Pasolini sull'obiettiva difficoltà della sua poesia e sullo stato della poesia oggi veramente io consiglio vivamente per chi non conosce questo libro di leggere e l'introduzione di Ferroni e quando scrive appunto Angelo Favaro il risultato cui è pervenuto non ha fatto che confermare l'ipotesi di partenza i giovani poeti intervistati per quando abbiano dimostrato una buona consapevolezza del fare poetico ma anche una umanità unita ad una grande umiltà hanno svelato alla fine uno scarso livello di conoscenza del poeta di Casarsa il volume così concepito considerando anche le risposte sincere generose dei giovani poeti si pone come un importante punto di partenza per avvicinarsi a Pasolini poeta per tornare finalmente a leggere la sua poesia ma anche come una bella esperienza di studio per chi voglia scoprire un Pasolini diverso dalla vulgata per concludere e per quanto si è detto devo riconoscere che l'incontro di stasera è stato veramente molto stuzzicante molto pieno di sollecitazioni e anche per lo spessore dei relatori intervenuti dei vari interventi del dibattito che si è aperto è ben evidente la spinta a ridiscutere cioè a tornare a parlare di Pasolini ma in termini nuovi noi abbiamo il desiderio la voglia di tornare a parlare di Pasolini ma in termini nuovi ma consentitemi di dire è proprio l'incontro di oggi fortemente voluto nell'intento di restituire Pasolini a una nuova riflessione e a una nuova fruizione che sigla a parer mio un momento importante direi imprescindibile nella storia delle innumerevoli celebrazioni anniversarie che hanno caratterizzato in Italia e altrove l'anno appena trascorso e ci tenevo soprattutto perché devo dire sono veramente molto molto dispiaciuta per la per questo incidente che non ci ha dato la possibilità di godere di godere e sappiamo che tipo di interventi e che spessore di interventi riesce a dare a costruire che cosa riesce a dare Alberto Granese e quindi sono sinceramente dispiaciuta però nello stesso tempo sono contenta perché grazie a Rino Caputo grazie a tutti i presenti grazie alla capacità di Rino che ha spinto e che ha stimolato come sempre fa dibattiti di grande livello possiamo ritenerci credo Luciana soddisfatti di questa giornata che abbiamo organizzato grazie Milena guardate io concordo in pieno dobbiamo chiudere Rino fammi parlare Luciana ci stanno lasciando tutti dobbiamo chiudere concordo in pieno con Milena sulle valutazioni di questa serata sulla bontà e la grandezza delle persone di Rino sulla sua capacità di coordinatore grande e su quello che ci ha fornito anche con lei ringrazio il presidente dell'associazione Mingaldo Lam ringrazio tutti possiamo bellissimo via allora alla prossima Ezio grazie complimenti auguri e Coni grazie davvero della volevo un amico Giuseppe Bolognese che si è collegato è stato coni scusa coni coni di questa serata posso grazie a tutti posso ringraziare posso fare coni ringrazio veramente allora innanzitutto desidero ringraziare il Ezio Martucelli in qualità di presidente dell'associazione storico-culturale progetto Centola e del gruppo Mingardo Lambro Cultura desidero ringraziare chi ha introdotto questa conferenza Rino Caputo e desidero ringraziare chi ha organizzato l'evento Milena Montanile e in modo particolare Luciana Gravina che mi ha esteso l'invito e che ho accettato davvero con onore e piacere anzi aggiungo che mi rendo disponibile in un prossimo futuro da dove ci saranno queste conferenze questi incontri su Pasolini e perché no anche su altri autori insomma la mia esperienza mi ha portato in questi anni anche a toccare con i miei occhi insomma versi anche di autori importanti non solo quelli che ho composto ecco quindi io vi ringrazio vi auguro una buona serata e che la poesia sia sempre con noi grazie a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti grazie grazie a voi grazie al presidente grazie a voi per la vostra presenza e per quello che avete fatto grazie a tutti grazie a Ezio ciao 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 Antonella ciao 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 la registrazione dell'evento vi prego poi di promuoverlo potete promuovere anche sui vostri blog eccetera eccetera d'accordo? grazie grazie molto arrivederci a presto ciao 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 ciao